Stiamo procedendo con la liberazione di un assiolo che è stato ritrovato qua al campeggio qualche settimana fa, probabilmente caduto dal nido. L'ho poi affidato all'associazione di massa marittima, la RAPAX, che se ne è presa cura fino adesso. E ora provvederemo a liberarlo. L'associazione RAPAX è un'associazione nata nel 2011 dopo un corso tenuto dalla provincia di Grosseto e ci occupiamo prevalentemente del recupero di avifauna e siamo specializzati nel recupero e riabilitazione di rapaci notturni, feriti o comunque che hanno necessità di essere curati per poi riessere rimessi in natura nel migliore dei modi. Abbiamo fatto la liberazione, purtroppo per la luce non è stato possibile fare la ripresa, però è andato tutto benissimo. Questo esemplare ha volato molto energicamente, si è già diretto verso il bosco e è salito su di un albero. Significa che da un punto di vista muscolare il recupero è stato perfetto. Significa che da un punto di vista muscolare il recupero è stato perfetto.